Il comune di Genova assediata dai lavoratori delle società municipalizzate. Da tre giorni gli autisti, dei bus e della breve linea della metropolitana si sono fermati. Uno sciopero selvaggio che ha paralizzato la città. Ogni giorno un corteo nelle vie del centro, la sopraelevata bloccata. Oggi abbiamo la popolazione che è con noi, una grande parte ci dà solidarietà. Alla protesta contro il rischio privatizzazione dell'azienda municipalizzata a trasporti si sono uniti anche i dipendenti dell'azienda dei rifiuti e di quella dei servizi territoriali. Nella sala rossa dalle 5 del pomeriggio c'è il consiglio comunale, a porte chiuse però per problemi di ordine pubblico dopo l'invasione e le violente contestazioni di martedì scorso quando era in programma la discussione di una delibera di giunta che proponeva di mettere un po' d'ordine sul sistema delle aziende comunali ma senza, spiega il sindaco Marco Doria, aggredito nell'occasione con uno spintone in aula nessuna specifica su eventuali privatizzazioni. Eppure i lavoratori temono che sia il primo passo verso lo smembramento di alcune delle società di proprietà del comune chiedono di vedere i conti dell'azienda dei trasporti con i suoi 2.300 dipendenti e 10 milioni di debiti accumulati negli anni e rifiutano altri sacrifici già imposti dai contratti di solidarietà. Una protesta compatta, uno sciopero selvaggio che proprio non è piaciuto al sindaco di centrosinistra Marco Doria alle prese con la sua prima vera grana dal giorno della sua elezione un anno e mezzo fa. Non si aspettava una reazione così forte dei suoi concittadini tanto da fargli dire oggi ci credo ancora, sono obbligato a crederci per il ruolo che rivesto ma domani si sciopera ancora.